La Movida non ha sesso. Nasce Taboo Friendly, una nuova realtà della Movida gay abruzzese, che a partire da sabato 26 gennaio animerà le notti di tutto l'Abruzzo. Crazy Circus è il tema scelto per la grande apertura, dicono gli organizzatori, per poi proseguire con un evento mensile fino a maggio in un locale. Senza inibizioni, senza complessi, senza etichette, senza razzismi e senza freni. Questo sarà il taboo, spiegano gli animatori, in particolar modo Christian Russo, l'organizzatore, il quale afferma che porterà la Movida gay quest'estate nelle piazze abruzzesi. È aperto a tutti, senza distinzione, eterosessuale, transessuale, gay. Ecco, voglio creare questa Movida in Abruzzo per aprire le porte a tutti. C'è un locale in particolare, per tutte le informazioni, poi c'è una vostra pagina Facebook, ricordiamola? Sì, c'è una pagina Facebook del Taboo Friendly Party, dove ovviamente vi invito anche a cliccare mi piace di questa pagina. Da lì ci sono tutte le info della località, della location, diciamo, dove viene effettuata questa inaugurazione serata gay beach party, diciamo gay friendly. Ricordiamo la data? Il 26 gennaio. Qualche anticipazione? Allora, qualche anticipazione, ci saranno delle fantastiche drag queen, ci saranno dei go-go boys, dei ragazzi, uno staff abbastanza carino e molto, come dire, molto preparata. Si stanno impegnando di questa serata già da tre mesi fa. Non finisce qui perché per quest'estate c'è un'altra idea, quella di portare la Movida Gay Friendly nelle piazze. Sì, spero e mi auguro che l'amministrazione comunale di Francavilla, che comunque mi ha sempre dato l'appoggio per varie, diciamo, comunque realtà, per varie manifestazioni, mi auguro che anche quest'anno l'amministrazione mi dia la possibilità di portare la Movida in piazza. e chissà anche in altre piazze della nostra regione per sfuggire a stereotipi e pregiudizi.